questo è clipped una lente di ingrandimento da applicare a tutti i tipi di occhiali ideata e prodotta interamente da noi in Brianza è un sistema che si può agganciare a tutti i tipi di occhiali e ha quattro lenti con ingrandimento diverso intercambiabili quindi a seconda della lente che scelgo avrò un ingrandimento diverso permette di lavorare con le mani libere ed è adatto per elettronica modellismo oreficeria germologia scienze naturali per togliersi una scheggia dalle mani piuttosto che qualsiasi occasione in cui si ha bisogno di un ingrandimento ecco qui vediamo le lenti sono timbrate 3x 4x 6x 8x non si identifica proprio perché ha il numero degli ingrandimenti si applica semplicemente lenti si montano a pressione basta una lieve pressione sono tutte lenti in vetro quindi non si sfrisano neanche se si utilizzano polveri o gas in questo caso stiamo vedendo una scheda elettronica vediamo ora come si vede qui sto usando un 6x vediamo ora come si vede qui sto usando un 6x e vediamo che ho un campo più ampio altrettanto adatto per fiori insetti oggetti preziosi riesco ad andare a vedere ogni particolare minerali minerali per sospettare Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi aspettiamo per il nostro prossimo video. Se volete iscrivetevi al nostro canale elettronica didattica.